Gentilissimo dottor Brancato, io le ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità a questa intervista e voglio subito chiederle, dopo questi primi due mesi di osservazione diretta, cosa avete scoperto di nuovo nella medicina interna sui meccanismi di azione del Covid-19? Grazie per la domanda, è interessantissima. Sicuramente il virus ha almeno due meccanismi di azioni diverse, un effetto citopatico diretto e un effetto immunomediato, ha delle porte di ingresso che forse non sono rappresentate soltanto dall'apparato respiratorio, probabilmente ha una facilità all'ingresso nel sistema nervoso centrale, nel nostro organismo anche attraverso l'apparato digerente e poi può avere delle azioni veramente abbastanza ad ampio spettro accanto a soggetti che sono assolutamente asintomatici, soggetti che hanno una vasculite abbastanza imponente, soggetti in cui il danno si limita alla polmonite o il danno si estende anche per esempio a livello miocardico, piuttosto che a livello cerebrale, piuttosto che a livello dell'apparato digerente. Ecco e alla luce di queste conoscenze cosa possiamo aspettarci dalle sperimentazioni sui farmaci in corsa? Io credo che ci possiamo aspettare dei farmaci che riescano, intendo dire, dei farmaci che soprattutto riescono a bloccare l'ingresso e la replicazione del virus nelle nostre cellule e questo ce l'aspettiamo molto dagli antivirali e poi dei farmaci che riescono a, ci aspettiamo dalle nuove sperimentazioni, dei farmaci che riescono a bloccare la sindrome da, la sindrome da tempesta citochinica che è quella che in molti casi determina la morte dei pazienti e da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista. Da parte sua se dovesse dare un suggerimento a un collega internista o infermiere per affrontare questa emergenza cosa si sentirebbe di dire? Mi permetto di dire e non suggerisco, raccomando a tutti gli operatori sanitari di pretendere da se stessi, dai loro collaboratori e dalle persone che li devono gestire la sicurezza. Sicurezza significa pretendere nell'ambiente in cui si trattano persone con Covid non solo i dispositivi di protezione individuale ma procedure, percorsi, zone filtro, impianti ventilazione separati, efficienti e puliti, addestramento e riaddestramento al personale. Se non c'è questo il Covid ci distrugge, se abbiamo questo il Covid lo vinciamo. E a tal proposito quali delle innovazioni operative e gestionali adottate in questa fase potrebbero a suo avviso diventare preziose come best practice anche dopo l'emergenza? Assolutamente, abbiamo imparato un sacco di cose, intanto che dobbiamo tagliare la burocrazia, siamo riusciti a tagliare la burocrazia e diventare molto più efficienti. La seconda cosa è che dobbiamo ragionare, in questo senso l'internista credo che sia sempre avanti, ragionare in maniera tale da poter creare dei team multidisciplinari dove le dimensioni di collaborazione devono essere orizzontali e verticali, dove si devono imbricare e dove ci deve essere qualcuno che deve essere sempre in grado di coordinare il gruppo. Queste sono le due cose che secondo me abbiamo imparato e ci dobbiamo portare nei prossimi mesi, nei prossimi anni anche al di fuori del Covid. Dottor Brancato è stato chiarissimo e io la ringrazio veramente per questa sua disponibilità, le auguro una buona continuazione, buon lavoro e sicuramente ci sentiremo anche più avanti per futuri aggiornamenti, la ringrazio. Con molto piacere, grazie a voi e grazie alla Fadoi. Arrivederci. Grazie a tutti.